E che si mangia oggi? Pizzette di melanzane al forno, il contorno perfetto per accompagnare secondi di carne o di pesce. Innanzitutto lavate ed asciugate le melanzane, quindi affettatele sottili allo spessore di un centimetro. Trasferite le fette di melanzane su una teglia ricoperta di carta forno. Spennellate la superficie di ogni fetta di melanzana con l'olio extravergine di oliva. Aggiungete sale e pepe. Quindi cuocete in forno caldo a 180 gradi per 15 minuti. Adesso passiamo al condimento per le nostre melanzane. Condite la passata di pomodoro con sale e olio basilico e aggiungete anche del pepe. Mescolate bene il tutto. Tagliate a cubetti la mozzarella e la fior di latte. Capovolgete le fette di melanzane. E quindi condite con la passata di pomodoro preparata precedentemente. Aggiungete anche la mozzarella a cubetti. l'origano. Aggiungete ancora un filo d'olio. E cuocete in forno a 180 gradi per circa 10 minuti. Ecco le melanzane pronte per essere servite e gustate. Grazie per aver seguito anche questa video ricetta. Alla prossima. Ciao!